Un clima mite accompagna queste giornate della fiera di Ecomonda a Rimini, ma ciò non toglie che qui si è consapevoli del fatto che c'è un cambiamento nel cambiamento climatico, come confermato dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale, che ha registrato un nuovo record dei gas Serra lo scorso anno. Ma questa non è la sola spia di un'accelerazione in corso. Sicuramente il tema dei cambiamenti climatici sta accelerando tutta una serie di processi e l'approccio scientifico, anche quello degli enti più importanti, deve essere anche un po' forse rivisto alla luce proprio di questi fenomeni. È anche vero che c'è ancora molto da lavorare sulla sburocratizzazione delle procedure e farlo anche in tempi rapidi. In questo luogo ci sono gli strumenti e le persone per migliorare il nostro rapporto con il pianeta, ma anche migliorare i nostri rapporti tra esseri umani? Ha una condizione, che è quella che ha indicato Papa Francesco, non tanto la transizione tra un paradigma, che è quello che ha creato povertà, disuguaglianze e squilibri, ma veramente una conversione ecologica, che non ci faccia dimenticare che i disastri ambientali e i disastri sociali non sono due crisi diverse, ma un'unica crisi. Qui ci sono persone che stanno tutti cercando di lavorare per portare il loro contributo per un cambiamento, che mi auguro che siano dei cambiamenti veri, non degli adattamenti. Ci bisogna anche di rigenerarci come persone, perché il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. Deve cominciare dalle nostre coscienze, dalla cultura, dall'educazione, dalle risposte sociali, perché il cambiamento ha bisogno di dare dignità e libertà a tutte le persone, cominciando dal lavoro e dalla cultura.